Che dire dell'eternità? Eppure vi sono molte persone colte e intelligenti che hanno cura dei loro interessi materiali e che sono completamente ciechi riguardo all'eternità che sta loro davanti. Nonostante l'infinito amore che Dio ha manifestato alla croce di Cristo verso gli esseri umani, miserabili e ribelli, nonostante il suo perfetto odio contro il peccato, nonostante la brevità della vita dell'uomo quaggiù, i terrori del giudizio dopo la morte e la terribile possibilità di risvegliarsi con l'atroce sorpresa di essere dalla parte peggiore di quell'abisso, posto fra il cielo e l'inferno. Nonostante tutto ciò, molti vanno incontro alla loro fine senza pensare né a Dio, né alla morte, né al giudizio, né al cielo, né all'inferno. Se sei di questi, abbia Dio pietà di te e ti apra gli occhi affinché tu possa vedere la tua pericolosa posizione sull'orlo franoso di un abisso senza fine. Che tu lo creda o no, il tuo caso è disperato. Non continuare a rifiutare di pensare all'eternità. Ricordati che l'idea di rimandare ad un altro momento è opera di Satana, di colui che tenta di ingannarti e che non solo è bugiardo ma è anche omicida. Giovanni 8 verso 44. Non viaggiare più per questa via. Eccolo. Ora è il giorno della salvezza. Seconda Corinzi 6 verso 2. Grazie a tutti.